Yankee! Qualcuno già ti ha visto in giro ieri a spasso, io non volevo incazzo ma... E sai che adesso vuoi andare a finire su Facebook queste riprese? Ma tanto come diceva, come ha detto lei, tanto se la mostro pensavo anche su oio Oh, attendo quello che dici fai su Facebook eh! Andiamo a che fare un cazzo, c'è anche... C'è anche? No, io provo una io e mi sa proprio altra roba Beh, hai preso allora Vabbè, che cazzo urdi? Un lampiolo che si accende? Penso che si Mi spensi oppure? Tanto parelletti hai detto ne fanno acciacco stasera Sì, a che ora comincia? E' l'ora che stavamo a pescare? La cosa è bella però cazzo, bello!